Eccellenza, oggi è la Festa della Repubblica, il 78esimo anno da cui è stata creata. Oggi è il 2 giugno, Festa della Repubblica, auguri a tutti noi, a tutti gli italiani, è una festa importante. Il Presidente della Repubblica, indirizzando il suo saluto ai prefetti, ci ha chiamati operatori della Costituzione. In realtà tutti noi siamo operatori della Costituzione, ma soprattutto siamo portatori sani di democrazia, perché non si fa mai abbastanza per l'attuazione della Costituzione, non si fa mai abbastanza perché la democrazia trovi il suo massimo impulso. Io penso che l'impegno di tutti noi, l'augurio che voglio fare oggi a tutti noi, sia quello di impegnarci tutti di più. E poi anche quest'anno ci sono dei riconoscimenti per delle persone che si sono distinte nel proprio lavoro. Ci sono dei riconoscimenti a cittadini che onorano questo territorio, ma lasciatemi di essere compiaciuta che tra questi riconoscimenti c'è anche quello del dottor Francesco D'Alessio, che è il vicario della Prefettura di Crotone. Presidente, oggi è la Festa della Repubblica, il 2 giugno è una data importante. Sì, una data, una ricorrenza penso la più importante in Italia, festeggiamo questa svolta alla Repubblica Italiana, una giornata che puntualmente festeggiamo qui a Crotone insieme alle massime autorità civili e militari, con il signor Prefetto, con il signor Questore, con l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitana Rievi, il Vigile del Fuoco, insomma tutte le associazioni, tutti insieme per una ricorrenza importante e la più importante d'Italia. Sindaco, una data importante, quella del 2 giugno per tutta l'Italia e anche per noi. Assolutamente, è così, ci ritroviamo ancora una volta a festeggiare la Festa della Repubblica. Dobbiamo essere tutti orgogliosi per le scelte che fecero allora chi andò a votare, per cui un motivo veramente di orgoglio. Viva l'Italia? Assolutamente sì, e sempre.